a massica news sephora enzaghi del comitato no power crop ciao sephora ciao luca vabbè insomma l'argomento l'abbiamo anticipato come svolgersi nel titolo no power crop perché ci sono delle novità negative novità negative a te ecco che è la risposta oppure iniziamo dimmi tutto dimmi tu vuoi sì facciamo un piccolo risultato sì 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 perfetto partiamo a ritroso da quello che è stato arriviamo ai giorni nostri ok allora quando si parla di no power crop o meglio di comitato no power crop si parla di un insieme di cittadini che dal 2007 si sono uniti insieme contro una centrale a biomasse importante si parla di una centrale a di 95 megawatt termici 35 megawatt elettrici più grande più piccola delle altre che stanno nascendo in zona a 30 volte più grande di quelle che stanno nascendo in zona quindi però tra l'altro anche in italia è una delle più grandi se non ricordo male la terza in italia per per potenza installata per quanto riguarda le centrali a biomasse nascerebbe nascerebbe ad avezzano nel quindi nel comune di avezzano in località borgoncine quindi proprio in mezzo a terreni agricoli e lì dove già attualmente c'è un impianto a biogas di circa un megawatt quindi proprio comunicanti come nasce ecco come nasce l'idea perché proprio lì come nasce il tutto nel 2006 l'unione europea attraverso questi accordi politici fatti da grandi politici ha voluto diciamo si è rivisto un po quello che è il settore saccarifero bieticolo in italia per cui sono stati chiusi degli zuccherifici tra cui quello di celano e per questi impianti dismessi va prevista una riconversione di tipo industriale nel caso specifico dell'impianto di celano così come scritto su questi documenti su questi accordi europei era prevista proprio nel sito di celano la riconversione dello zuccherificio a stabilimento che lavorasse i prodotti ortofrutticoli del fucino e questa è una bella diciamo una cosa buona e giusta soprattutto se consideriamo il quindi guarda mi è tornato in mente facendo mente locale l'intervista con marco jacudone e lo stesso jacudone diceva che era favorevole a quella riconversione tu che ne pensi è un progetto diverso o in linea massima siamo sulla stessa falsa riga allora se la riconversione è quella scritta sulle carte quindi dove si parlava di lavorazione dei nostri prodotti ortofrutticoli e si insedia benissimo nella realtà locale quindi i nostri prodotti qui vengono prodotti lì vengono lavorati quindi c'è un senso in quella che è la filiera locale dal della produzione della trasformazione in realtà ad alzano servirebbe la pianura padana per creare una in realtà è venuto fuori dalle carte reperite tramite regione perché ci si è attivati che di questo stabilimento non esiste traccia cioè non esiste neanche uno straccio di progetto ma fin dall'inizio la società power crop quindi la società qui è stata affidata la riconversione ha prodotto un progetto completamente diverso che riguarda proprio la l'installazione di una centrale a biomasse come dicevo prima di grande potenza sia termica che elettrica e dove non a celano quindi sul sito da riconvertire ma a 20 chilometri di distanza cioè nel comune di avezzano sono stati quindi all'epoca firmati degli accordi dove il comune di avezzano non era stato minimamente chiamato al tavolo ecco come negli altri casi della marsica insomma in ambito marsicano in quasi tutti i casi ecco diciamo sì di una spiacevole consuetudine per cui ecco attivandosi ripeto in seguito alle carte sono stati fatti degli studi non solo di tipo ambientale cioè abbiamo fatto diverse considerazioni è venuto fuori tramite relazioni fatte anche dal corpo forestale dello stato le stesse categorie agricole che inizialmente avevano aderito all'accordo di riconversione hanno poi ritirato le firme perché si sono resi conto che quello di cui si parlava non era più quel progetto di trasformazione ma era una centrale a biomasse che non ha significato in un territorio come questo dove dove sta il vulnus dove può essere il il dramma diciamo dove prenderebbero il materiale allora il dramma ecco fin da subito sono venute fuori tante discordanze nel senso che in questa centrale dovrebbero essere smaltiti 270 mila tonnellate di più pelle quelle a crescita veloce che andavano reperite nel raggio di 70 chilometri per il discorso della filiera corta per accedere ai famosi certificati verdi e via dicendo e ce l'abbiamo non ce l'abbiamo ripeto esiste una relazione quanto stiamo fuori di molto sapresti quantificare guarda dovrei rivedere le carte un decimo cioè un decimo abbiamo siamo fuori di nove decimi ecco il 90 per cento oppure sono stato dovrei controllare sulle carte ma ricordo che dalla relazione che fece anche la forestale su quello che era il quantitativo non arrivevamo proprio a soddisfare neanche la metà del del fabbisogno della centrale tanto è vero e questo lo testimonia poi il fatto che a maggio 2010 viene firmato un nuovo accordo presso il ministero delle politiche agricole forestale dove la filiera viene allungata quindi si ampia non più a 70 chilometri di raggio ma anche oltre 300 chilometri quindi questo già ecco fa accendere la lampadina è sospetto sì diciamo però almeno rende verosimile verosimile praticamente ci arriveranno magari le famose più pelle dall'orto dal porto di ortona come dico sempre io non solo sfruttiamo il nostro territorio andiamo a sfruttare anche gli altri territori quindi ci senti è un progetto che in realtà sembrava seppellito per un certo punto un progetto che no diciamola bene dormiente dormiente perché in seguito alla la commissione via della regione abruzzo diede parere favorevole al a questo progetto di centrale un parere espresso non so in che in che modo e con quali criteri visto che la discussione in commissione sarà durata circa cinque minuti considerando che quel giorno venivano discusse come consuetudine per il comitato via della regione abruzzo altre decine di progetti quindi il comitato da parere favorevole in seguito a questo parere favorevole il comune di luco de marzi allora amministrazione cherubini si è attivato per primo con un proprio ricorso al tar contro questo parere in quanto comune limitrofo e quindi penalizzato anche egli dalla realizzazione della centrale ha fatto seguito il ricorso al tar del comune di avezzano allora amministrazione floris e c'è poi un terzo ricorso che proprio per farvi capire l'importanza del tema che trattiamo è stato firmato insieme dalle associazioni ambientaliste e dalle categorie agricole in primis ecco confagricoltura è stata diciamo un caposaldo ecco fra fra le categorie agricole inoltre a novembre del 2011 siamo andati in regione e abbiamo ottenuto una risoluzione con cui il consiglio regionale si impegnava ecco a sospendere l'iter autorizzativo quindi a non andare avanti in attesa dei ricorsi quindi di quella che era la sentenza del tar poi cosa è successo cosa è successo è successo che noi siamo ecco pensavamo dormisse come hai detto tu cioè che fosse tutto fermo in realtà già a luglio dell'anno scorso voi pensavate che dormisse o che fosse morto no morto no in realtà la guardia non è mai stata abbassata infatti chiediamo spesso ecco informazioni e via dicendo e siamo in attesa ecco che venga dato seguito a questa risoluzione cioè sospendere il tutto finché il tar non si esprime in merito alla vicenda ora ci ritroviamo oggi luca qui grazie a te che insomma ci dai ci dai questo spazio perché perché all'interno del decreto competitività esattamente come è successo già lo scorso anno con il decreto del fare quindi ci troviamo a rivivere una situazione analoga a quella dello scorso anno quest'anno il governo ci riprova che cosa fa all'interno del decreto competitività è stato inserito un emendamento che reinserisce reintroduce i commissari ad acta per tutti quegli zuccherifici in italia quindi non soltanto il nostro che ad oggi non sono andati avanti con con la riconversione per motivi ecco burocratici o di opposizione locale questo decreto già l'anno scorso venne in seguito a un ricorso fatto dalla regione veneto venne questo emendamento scusami venne dichiarato incostituzionale dalla corte costituzionale perché andava contro quelli che erano gli articoli 117 119 e 120 della nostra costituzione italiana perché è un decreto che lede completamente non solo la dignità dei territori come dico io ma è quasi un'imposizione cioè quella che è la competenza delle regioni in materia di agricoltura viene scavalcata da un ente ecco sovra regionale quindi dallo stato l'anno scorso questa cosa venne sventata cioè si riuscì a non proseguire quest'anno ci hanno riprovato e purtroppo ad oggi il 25 luglio il senato ha messo la fiducia su questo decreto che prevede in realtà questo non te lo posso dire poco fa prima di venire ho chiamato perché oggi si sta discutendo in camera quindi siamo in attesa prima delle sei non ci sarà la votazione purtroppo però ecco chiamando in i nostri referenti alla camera sembrerebbe che la camera potrebbe in quel caso ci sarebbe un piano b per noi comuni mortali in questo caso io no allora io penso che le istituzioni non devono e non possono rassegnarsi in questi giorni da una settimana da quando abbiamo avuto notizia che l'emendamento era già stato diciamo l'emendamento ma l'intero decreto competitività presenta molte sfumature anticostituzionali quindi già dal 25 luglio che ci è arrivata questa notizia si sono attivati tramite anche noi il comitato che abbiamo cercato di contattare il più possibile i nostri referenti comunque contatti che in questi sette anni hanno lavorato ecco tra virgolette insieme con noi quindi affinché qualcosa si smuova quindi è stato contattato ad esempio giuseppe di pangrazzo che fin dall'inizio ha sempre mostrato vicinanza all'argomento il team del movimento 5 stelle sono stati i primi ecco ad avere sia la notizia sia ad attivarsi mi sono sentita anche con sell quindi c'è il referente di sell montelisciani che sta facendo da tramite con melilla e mazzocca quindi i canali si sono aperti abbiamo fatto rete anche con gli altri comitati in tutta italia perché ripeto questa situazione non riguarda solo avezzano ma ci sono altri sette o otto impianti in tutta italia che vivono la stessa situazione mi auguro quindi che se oggi questa sera dovesse passare questi canali attivati in questi giorni possano continuare a lavorare insieme ancora con più impegno per impugnare questa questa decisione per impugnare il tutto come fece la regione veneto a suo tempo ma secondo te come andrà a finire io purtroppo la palla di vetro non ce l'ho vabbè un pronostico oggi come oggi io non so fare più pronostici ti dico la verità perché vedo un territorio martoriato il nostro da interessi più grandi non so se tu hai fatto questa riflessione a me è capitato qui arrivano grandi interessi grandi poteri industriali che ci promettono benessere ci stanno promettendo sviluppo ci promettono crescita economica e posti di lavoro però se poi guardi la storia di tutte queste promesse noi abbiamo una turbogas che è stata fatta per garantire i posti di lavoro e che ad oggi impiega se no una decina di persone baccaferri vendette ecco tra anni fa la sua azienda gruppo pittini ad oggi ci sono altri 80 o 100 disoccupati un nucleo industriale di avezzano che è morto totalmente eccetera eccetera ma purtroppo la power crop farà la stessa cosa non abbiamo continuano a ricattarci tra virgolette a farci giossaggio dico io con la promessa dei posti di lavoro ma se andate a leggere le carte a parte che sono impianti altamente automatizzati quindi non hanno bisogno di mano d'opera ma all'interno ecco c'era scritto si parlava di una ventina di unità lavorative di cui una buona parte si porterà la power crop perché ha i suoi esperti sui tecnici per cui è tutto un uno sfruttamento ecco il pronostico non te lo posso fare la vedo dura e la vedo grigia se veramente chi può e chi ci rappresenta non si mette con impegno a fare i nostri interessi quelli di questo territorio e non di chi viene ci sfrutta e se ne va ma la strada più facilmente percorribile e più come posso dire positiva magari quale potrebbe essere cioè parlare di referendum vuol dire andare incontro a un insuccesso perché referendum ormai non raggiungono mai il quorum ecco quale potrebbe essere la strada più fruttuosa ripeto se parliamo di questo aspetto specifico se dovesse passare questa sera qui devono entrare in gioco le nostre forze politiche locali anche perché ripeto questo emendamento lede anche la loro dignità di amministratori locali cioè non viene proprio scavalcata quella che è la loro autonomia ripeto per difendere interessi più grandi quindi questa è la strada se invece tu mi stai chiedendo l'alternativa l'alternativa era questo impianto di lavorazione dei nostri ortaggi era quello che doveva essere la riconversione doveva premiare gli agricoltori del fucino non privarli invece di una risorsa noi stiamo parlando di un impianto che non si può sostenere né dal punto di vista ambientale perché ha emissioni importanti sia a livello di atmosfera acqua e consumo di suolo non porta ripeto posti di lavoro quindi non non accresce la nostra economia locale e abbiamo tutto da perderci cioè non non è ripeto sarebbe lunga raccontare sette anni tutto un malloppo di carte quindi allora perfetto si fa per dire però insomma è come intercalare ci avviamo alla conclusione però prima devo chiederti un'altra cosa il comitato si sta riorganizzando quali sono le prossime mosse forme di protesta glamorose per ora siamo solo in attesa il comitato si riorganizza è sempre vigile come ripeto io e luigi presutti siamo quelli un po più attenti alla tematica ma nel momento in cui arriva la notizia si subito informano gli altri membri del comitato e comunque insieme si lavora e ci si attiva ripeto se stasera questa cosa dovesse passare ci riorganizzeremo in modo tale da sostenere ecco anche i nostri politici locali di qualsiasi schieramento perché quando si parla di salute e benessere di un territorio non tutti devono essere coinvolti quindi lavorare tutti insieme affinché qualcosa si possa e si deve ecco si può e si deve fare quindi grazie mille bocca al lupo da buona ambientalista e anche amante degli animali sì comunque quello è l'ambito ecco diciamo stefone inzaghi grazie mille anche da parte del lupo a presto ciao 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 Grazie a tutti.